Abbiamo da poco concluso i lavori della prima giunta che si è riunita questa mattina e che si è svolta in un clima di assoluta serenità ma anche di grande ed operosa volontà di collaborazione di lavoro. Ogni assessore ricevuta la delega ha rappresentato le sue priorità assolutamente coerenti con il programma presentato agli elettori e il mese di lavoro che fin qui è stato in qualche modo svolto sulle spalle del sindaco ha trovato la possibilità di ancorarsi a queste stesse priorità degli assessori che ora sul lavoro parzialmente istruito potranno completarne gli aspetti procedurali ed esecutivi. Ecco perché sono molto soddisfatto di questo primo incontro di lavoro che è durato oltre due ore e che ha dato un assetto non solo tematico ma vorrei dire anche metodologico ed organizzativo ad una giunta che trovo e confermo essere basata su oltre che su grande entusiasmo dei singoli anche su qualità competenza ed esperienza.